L'anno a Cagliari sicuramente mi è servito tantissimo, ho avuto un tecnico molto molto bravo come Di Francesco, ha sempre puntato sui giovani, mi ha voluto fortemente, mi ha fatto giocare con continuità. Poi ho avuto un'infortunio nella seconda parte di stagione che non mi ha permesso di giocare e aiutare i miei ex compagni, però mi è servito tanto perché comunque giocare trovi continuità, trovi condizione, sicurezza nei mezzi. Riguarda l'azione dell'altro giorno, anche se l'avversario non aveva un livello altissimo, però quando vado in campo provo a fare giocate, mi diverto, sono spensierato, non mi faccio grandi problemi, se c'è da fare la giocata la faccio. Riguardo a Cagliari mi è servito tanto e adesso continuiamo su questa strada a lavorare con il nuovo mister, che sta chiedendo concetti a noi in quest'anno nuovi perché ha portato nuove cose, nuove modalità di gioco, nuovi pensieri, erano un po' mancati questi concetti. Abbiamo dei mister che chiedevano altre cose, cose differenti, e quindi siamo molto entusiasti di continuare a lavorare con il mister italiano. Grazie. Grazie. Grazie.